Sì, io chiedo di sollecitare questi vaccini almeno per le persone anziane oltre gli 80 anni. Io voglio portare il mio problema in generale perché ho mia madre che è 85enne, vive con mio padre che è un disabile e tre volte a settimana fa la terapia di dialisi. E quindi è un disabile che viene preso, prelevato da casa tre volte a settimana e lo portano in clinica a fare la dialisi. Quindi è una persona a rischio. Però noi avevamo prenotato a mia madre perché mio padre l'hanno prenotato la clinica stessa. Si sono presi loro l'incarico essendo un loro paziente e ce l'hanno prenotato al lab di Mnola. L'hanno vaccinato un dieci giorni fa. Noi siamo ancora in attesa di poter vaccinare mia madre che ha 85 anni e vive con mio padre in casa, a rischio che può essere contagiata. Però fino adesso non è arrivata ancora nessuna notifica, diciamo così, al riguardo. Ancora ritardi e polemiche sulla campagna vaccinale degli over 80 a Torre del Greco. Diverse le segnalazioni alla redazione di TV City di familiari di anziani preoccupati e in attesa della convocazione per i loro cari. Tempi lunghi anche per quelli che hanno richiesto la vaccinazione presso il proprio domicilio. Tempi che ora dovrebbero ridursi con l'apertura alle vaccinazioni anche presso gli studi dei medici di medicina generale. Non mancano gli appelli ad amministrazione comunale ed ASL per velocizzare le procedure. Secondo lei un territorio grande come quello di Torre del Greco avrebbe bisogno di più centri vaccinali? Sì, perché noi pensate che io l'ultima volta che ho visto intervista del nostro sindaco diceva che al laboratorio dell'Annunziata si facevano quasi 200 vaccinazioni al giorno. Essendo l'unico laboratorio a Torre io penso che con una intensità di popolazione 85.000 abitanti per poter poi vaccinare tutti ci vorrebbero una media, io ho fatto più o meno i calcoli, due anni, due anni, tre anni e siamo molto molto indietro. Io mi auguro che la nostra amministrazione comunale possa velocizzare queste cose e aprire più centri anche perché un solo centro per il nostro territorio che è molto vasto e per vecchie persone hanno difficoltà ad arrivare. Io mi auguro che il sindaco faccia di più con il dottor Schiavo e si rendano conto che Torre del Greco ha bisogno di essere velocizzata nei vaccini e di aprire qualche centro in più. Posso anche capire che c'è la problematica dei vaccini che anche a livello nazionale diciamo così ci sono dei problemi come diciamo di che ci mandano questi vaccini così. Però io faccio questo appello al sindaco adesso l'ultima intervista ho visto che sono stati messi anche dei medici di base per fare queste vaccinazioni però non tutti i medici di base hanno aderito e quindi automaticamente chi ha il medico di base che ha aderito potrebbe avere l'agevolazione ma chi non ha il medico di base andrebbe nelle difficoltà di aspettare. Quindi io penso che questa battaglia si vince solo con le vaccinazioni e prima si fanno le vaccinazioni prima ne usciamo.